ci siamo ti vediamo allora io spero abbiate trascorso delle buone vacanze noi ci siamo lasciati con l'ultima presentazione che parlava di obesità e spero che non abbiate mangiato troppo e non abbiate dato da mangiare troppo a fido e micio durante le vacanze perché oggi c'è la resa dei conti per cui facciamo il punto della situazione cercando di capire perché i nostri pezzi, i nostri benemini in effetti siano in status di sovrappeso chi era presente nella diretta precedente saprà che l'incidenza dell'obesità è elevatissima nel cane e nel gatto si parlava di circa il 50% dei gatti e circa un terzo dei cani le cause possono essere disparate, una ridotta attività fisica quindi delle abitudini di vita e uno stile di vita non adeguato lo status di sterilizzazione ma certamente una delle cause principali è la sovralimentazione la sovralimentazione che purtroppo spesso dipende da un nostro errore inconscio perché se facciamo riferimento ad un'alimentazione commerciale ad esempio a base di crocchette o di scatolette quindi di umido e facciamo riferimento a ciò che è scritto sul retro della confezione per sapere quanto ci vuole dare a fito miccio come vedremo al termine del presente webinar possiamo commettere un errore ma non perdiamoci in un terreno dei commenti e iniziamo tra virgolette a dare i numeri io come dico spesso e ho detto anche durante una delle dirette precedenti la nutrizione non è filosofia, la nutrizione è scienza ma mi spiace per voi la nutrizione è anche matematica pertanto come vi ha detto Silvia vi chiederei di essere attivi e proattivi durante questa diretta unirvi con una calcolatrice in modalità scientifica cioè se utilizzate la calcolatrice del cellulare aprite l'applicazione calcolatrice girate il cellulare in orizzontale e automaticamente la calcolatrice dovrebbe mettersi in modalità scientifica cosa significa che sulla sinistra del vostro schermo dovreste vedere una X con l'elevazione a potenza alla Y schiacciando quel tasto lì voi riuscite a fare quello che nella slide si è indicato come cappellino seguito dal numero ok? quindi dite le istruzioni parliamo dai calcoli cioè quanta energia dobbiamo dare al nostro amico cane scusate un po' di terminologie, un po' di acronimi ma per brevità d'ora in poi parleremo di MER cioè metabolic energy requirement dall'inglese per intendere il fabbisogno energetico di mantenimento cioè quanta energia, quanto carburante il nostro amico fido deve ingurgitare per mantenere il suo peso ideale e per ritornare al discorso del peso ideale ricordatevi il concetto di body condition score di cui avevo parlato nelle relazioni versioni allora quanta energia deve assumere il nostro amico fido per mantenere il suo peso ideale calcolatrice alla mano noi consideriamo che l'energia espressa in chiro calorie totali giornaliere dipende dal peso ideale stimato elevato ad un coefficiente standard che è 0,75 moltiplicato per un fattore che è 110 cerchiamo di capirci facendo un esempio se io ho un cane meticcio di 3 anni maschio intero di 10 kg di peso ideale quanta energia questo cane deve assumere nelle 24 ore per mantenere il peso ideale di 10 kg prendiamo la calcolatrice facciamo 10 elevato a 0,75 che corrisponde sulla calcolatrice a schiacciare 10 seguito dal tastino x elevato a y e digitare 0,75 e moltiplichiamo questo numero per 110 chi ha voglia di fare questo calcolo e dirmi qual è il numero che viene fuori? se tu Silvia mi assisti nel vedere se arrivano delle risposte sì, io sto guardando se arrivano dei commenti io non riesco a farli perché eccolo qua farfa fiore mer uguale 618,6 kilocalorie bravissima ok, qualcun altro? ci offre a Sanna anche lei 618 ok qualcun altro che offre di più? per adesso sono due che hanno fatto cosa è ridì come fare il calcolo un peso ideale quindi il peso del tuo cane voi mi vedete piccolina ma mi vedete vero? perché se io prendo la calcolatrice aspetta che ti ingrandisco ti vediamo 618,57 Marta Francesca Croce allora io prendo esattamente la mia calcolatrice Alessandra è già in modalità di te mi stai a fuoco sì è a fuoco perfetto così me la dà già scientifica allora faccio 10 sì clicco il tastino x elevato a y e mi viene perfetto 0.75 e questa è la prima parte dell'efficio ok poi per l'asterisco sta per per ok 110 perfetto uguale ok 618 mi è venuto a tutti i 618 sono stati bravissimi no ma allora a questo punto io ho finito qua basta arrivederci mi scaricate la presentazione e la tabella ok per essere pignoli dal punto di vista matematico vi ho visto che era un 618,5 poi il numero successivo al 5 era superiore a 5 ho arrotondato a 619 ma non è una chilocaloria che fa la differenza perfetto quindi queste chilocalorie sono l'energia metabolizzabile giornaliera che il nostro amico che abbiamo chiamato Fido deve assumere per mantenere su 10 di chili di peso fosse così semplice avremmo finito qua in realtà questa è la base ma poi dobbiamo lavorare oltre e perché dobbiamo lavorare oltre? perché fondamentalmente il numero di cani non sterilizzati che vivono nelle nostre case o nei nostri giardini non è così elevato e soprattutto questo equivale al fabbisogno di un cane che compie un'attività media non è castrato e vive in condizioni di omeotermia cioè cosa significa? che non deve disperdere energia per termoregolare la temperatura infatti come sappiamo anche noi influenza tantissimo l'appetito perché va ad influenzare il metabolismo se ci sono delle basse temperature all'esterno tendenzialmente consumiamo di più perché non avendo noi la pelliccia dissipiamo calore quindi dobbiamo compensare l'energia che usiamo per termoregolare assumendo più calorie sulla base di questo concetto si applica il fattore di correzione temperatura cioè un cane a pelo raso che vive in un box all'esterno d'inverno quindi poniamo meno 10 gradi centigradi dovrà mangiare il suo mer calcolato ma moltiplicato ancora per uno e mezzo per compensare quel dispendio energetico in più derivante dal fatto che deve mantenere la temperatura corporea costante per cui il nostro cane di 10 chili maschio intero che d'inverno vive in un box all'esterno con temperature ad esempio di meno 10 dovrà mangiare calorie per 10 elevato a 0,75 per 110 per 1,5 ok? perfetto si stava specificando scusami per Giovanni Trentin che non è che differenzi i cani di razza e i cani meticci cani di razze nordiche esatto io nella slide prima ho fatto l'esempio di un cane meticcio perché vedremo che la razza quindi il fatto che questa razza abbia il pelo lungo pelo corto o il fatto che questa razza sia più o meno nevrile o più o meno pigra influenza il fabbisogno energetico e lo vedremo con alcuni esempi e alcuni calcoli che vi farò fare però per adesso facciamo finta di avere a che fare con un meticcio se questo meticcio sta a meno 10 deve mangiare di più quanto di più la sua energia per 1,5 se questo meticcio sta a una temperatura prossima allo zero il nostro coefficiente aggiuntivo non è 1,5 ma è 1,25 non per le razze nordiche questo perché perché una razza nordica a temperatura 0 gradi sta benissimo quindi in realtà ha già inisito nel proprio patrimonio genetico e nella propria costituzione il fatto di saper termoregolare a 0 gradi per cui non ha bisogno di più energia ha bisogno dell'energia normale calcolata con la formula precedente se invece abbiamo dei cani a pelo lungo un terranova ad esempio o un cane davvero molto peloso che di conseguenza per tenere la temperatura adeguata e in questo caso non eccessivamente alta che vive a 30 35 gradi allora anche in questo caso consumerà più energia ma perché? ma perché per termoregolare quindi abbassare la temperatura compora lui accelererà il battito cardiaco e la frequenza respiratoria e di conseguenza consumerà più energia quindi se avete un terranoma che vive in Sicilia d'estate probabilmente questo cane se vive fuori con una canicola di 35 gradi dovrà assumere più energia rispetto allo stesso cane a temperature di 15 16 18 gradi ok? ok tutto chiaro? tutto chiaro mi faccio quindi una domanda il nostro cane medicio che a questo punto non pesa più 10 chili ma ne pesa 15 e che vive a meno 12 gradi impostatevi soltanto il calcolo in chat ditemi come fareste il conteggio senza rarmi il risultato ok adesso aspettiamo che ci siano delle risposte e nel frattempo specifichiamo che non è che perché il cane ha il pelo lungo dobbiamo tosarlo per fargli avere no 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 assolutamente se è nato col pelo lungo un motivo ci sarà esatto perché se non togliete il pelo soffre ancora di più ecco diciamo esatto ecco ho 1 virgola no Alessandro Nannetti dice 1 1 2 57 ehm veramente lui ha già fatto il calcolo delle calorie vorrebbe soltanto che non impostasse il calcolo la proporzione l'equazione ecco dici con che cosa hai moltiplicato allora Marta Francesca Croce per 1,5 ok Farfafiore per 1,5 addirittura ha messo tutto il calcolo bravissima dimmi tutto il calcolo 15 eh per 0,75 per 100 insomma la 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 0,75 per 110 per 110 per 1,5 perfetto benissimo anche anche Marta Francesca Croce per 1,5 e Mer per 1,5 ok volevo soltanto vedere dove mi mettevate questo 1,5 giusto in coda al al calcolo ok e per la temperatura ce l'abbiamo fatta c'è il discorso temperamento barra sterilizzazione come vi dicevo eh il fatto di essere più o meno nevrili o più o meno pigri interferisce col dispendio energetico se il mio soggetto è sterilizzato sia esso femmina che maschio noi dobbiamo utilizzare il calcolo di partenza e ridurre di un circa 20% le chilocalorie moltiplicando il fabbisogno di base per 0,8 moltiplicare per 0,8 più o meno me ne accorgerete che significa ridurre di circa il 20% l'apporto calorico giornaliero questo perché lo sappiamo benissimo se abbiamo un cane o un gatto sterilizzato la sterilizzazione rallenta il metabolismo e quindi per mantenere lo stesso peso devi mangiare di meno quindi il nostro cane emeticcio maschio sterilizzato di 10 kg anziché 10 elevato a 0,75 per 110 dovrà mangiare 10 elevato 0,75 per 110 per 0,8 al contrario se un cane è molto attivo questo 0,8 diventa un 1,3 ovvero più energia perché solo vivendo io consumo di più se siamo veramente nervosi ad esempio i cani che effettuano attività di caccia quindi venatoria o sono cani da lavoro che magari passano tutto il giorno a fare mandi indietro nel box o il classico cane che sta in giardino e rincorre il postino e rincorre le auto o le biciclette quel cane lì farà un'attività fisica spontanea molto elevata quindi probabilmente consumerà molto di più rispetto allo stesso cane che invece vive in appartamento di conseguenza dobbiamo aumentare il suo fabbisogno energetico di 1,4 volte quindi moltiplicare per 1,4 ma schifo e sterilizzati uguale scusami uguale ma schifo e sterilizzati uguale per termine zero antici un'altra cosa i fattori di correzione si sommano cioè se io ho un cane sterilizzato ma che vive a meno 10 io li applico tutti e due in sequenza poi è chiaro che uno toglierà e l'altro aumenterà ma è sempre corretto applicarli tutti se non in rarissime eccezioni ma di solito queste rarissime eccezioni li si decide sulla base della pratica dell'esperienza di base mi direi applicate tutti i fattori di correzione in sequenza anche i temperamenti di sommi perché se è sterilizzato ma è comunque molto attivo assolutamente se non ci sono dubbi o perplessità andiamo avanti ah un'altra cosa tutti i calcoli che io vi sto proponendo così come questi numeri non me li sono inventati io derivano dalla combinazione di una serie di studi scientifici fatti nel corso del tempo e queste informazioni sono poi state acquisite e validate dalla Fediaf che è l'organismo europeo che detta legge in materia di formulazione di diete commerciali o case ringhe di geribilità calcolo dei fabbisogni e quant'altro ok? certo poi dicevamo correggiamo per la temperatura correggiamo per il temperamento o lo status riproduttivo ovviamente correggiamo per la razza moltiplichiamo per 0.8 nel caso in cui il nostro cane sia una razza per risposta all'obesità abbiamo già parlato nella relazione dedicata all'argomento ma chi ha un boxer un labrador un golden un beagle sa che questi cani oltre ad avere un appetito particolarmente famelico appena guardano il cibo ingrassano per cui se abbiamo questo cane dobbiamo necessariamente prevedere una riduzione delle chilocalorie rispetto a quello che faremmo per un cane di pari peso ma di altra razza per cui il mio labrador maschio castrato avrà un bisogno di peso ideale elevato a 0.75 per 110 per 0.8 che è il primo fattore sterilizzazione per 0.8 che è il secondo fattore labrador quindi razza ok il discorso delle razze nordiche diciamo che io ve l'ho inserito perché storicamente abbiamo sempre ridotto le chilocalorie nelle razze nordiche perché come vi dicevo se non stanno bene a 0 gradi è perché sono progettati per consumare un quiz di energie in più per vivere bene a quelle temperature se noi li teniamo a clima da spiaggia probabilmente ma senza avere delle temperature che li portano a essere polipnoici quindi a respirare più rapidamente avere un battito cardiaco più elevato allora è possibile che loro tendano a ingrassare un po' per cui storicamente applicavamo il fattore 0.8 in realtà per esperienza mi è capitato che recenti dinastie di Aschi piuttosto che di Malamut non avessero bisogno di questo 0.8 perché probabilmente il fattore cane nevrile compensava per cui la cosa giusta sarebbe magari applico lo 0.8 per razza nordica ma magari mi applico un 1.2 o 1.3 per temperamento al contrario ragazzi per risposte al dimagrimento levrieri whip alani ma anche alcuni weimarunner alcuni beatbull amstaff devono ricevere più energia proprio perché sono geneticamente disposti ad essere ricchi di massa muscolare ma poveri di massa grassa e quindi il fattore di correzione è per incrementare l'energia ed è un 1.2 ok ok poi io ho fatto una cosa torno indietro sulle 3 slide perché chi non si è fatto le fotografie vi farei fare le fotografie affinché abbiate sotto mano i vari fattori di correzione perché ci saranno degli esercizi e mi rendo conto che in 5 minuti non possiate aver imparato a memoria i vari fattori per cui ricordiamo un secondo solo che ovviamente le presentazioni le possono poi scaricare con anche una meravigliosa tabella che ci ha fatto Alessia ci ha fatto un regalone sul sito bluvet slash dirette per cui fate tutte le foto che volete ma poi avrete tutta la presentazione che la potete scaricare ovviamente scrivendovi al sito per tranquillità ok scusi e poi ci sarà un altro regalo io adesso vi faccio fare il calcoli con la calcolatrice ma vi ho fatto un foglio Excel in cui basta che insegnate alcune cose e il calcolatrice esatto 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 allora prima foto formula di base ok seconda foto fattore di correzione temperatura perfetto fattore di correzione temperamento quarta foto fattore di correzione razza ok poi per i cuccioli discorso ancora un pochino più complesso perché oltre a prevedere il fabbisogno energetico di mantenimento cioè il cucciolo deve vivere il cucciolo deve anche accrescersi per cui è chiaro che concettualmente debba avere un guida energetico che gli consenta di raggiungere dal peso del cucciolo al peso d'adulto come faccio a calcolare questo coefficiente ovviamente questo coefficiente varia in base a quando il cucciolo si è già cresciuto e quindi qual è la differenza tra il suo peso attuale e il peso stimato d'adulto per cui noi facciamo innanzitutto chiediamo quanto pesino i genitori di norma se sei un maschio faccio riferimento al peso del papà se sei una femmina faccio riferimento al peso della mamma salvo la reaccezione in cui ci sia qualcuna discrepanza notevole supponiamo che il mio cucciolo attualmente pesi 5 kg e debba diventare 20 prendo il peso del cucciolo 5 kg lo divido per il peso d'adulto stimato 20 kg 5 diviso 20 quanto fa? adesso ce lo dicono aspetta che ce lo commentano aspetta vale per tutti i tipi di bull dopo ve lo risponde ditevi che io sono in diretta su Instagram non posso fare il calcolo ditecelo voi perché loro arrivano qualche secondo in ritardo quindi i commenti poi devono fare il calcolo un attimo 025 farfafiore è subito la prima è fantastica ok e anche Romina 4 no 20 diviso 5 fa 4 Romina esatto 5 diviso 20 ok allora 025 e la appunto la la divisione tra peso cucciolo peso d'adulto noi andiamo a cercare il numero che più si avvicina allo 025 in questo caso è 03 e arriviamo ad avere un coefficiente che rappresenta quella quantità di energia aggiuntiva da addizionare alla nostra formula di pertenza per far accrescere il nostro cucciolo in questo caso è 2,14 per cui il peso del cucciolo 5 elevato a 0,75 per 110 per 2,14 man mano che il cucciolo si accrescerà quindi da 5 kg diventerà sì che so 10 kg questo numero tenderà ad alzarsi fino a che peso del cucciolo peso da adulto presso che saranno uguali e quindi il coefficiente di accrescimento diventerà 1,1 qualcosa fino a diventare 1 e sapete di moltiplicare per 1 equivale a moltiplicare per niente per cui il suo fabbisogno sarà esattamente il fabbisogno di mantenimento di un soggetto adulto un suggerimento nel caso dei cuccioli rivolgetevi comunque al vostro veterinario perché è molto facile fare dei danni per cui mentre siete assolutamente autorizzati a effettuare un calcolo per un cane adulto normo peso per fare il conteggio di un cucciolo vi prego chiedete conferma al vostro veterinario operante perfetto è che io ho i cani che abbaiono tolto il microfono ok direi che se questo concetto è chiaro passiamo un attimo al gatto perché parliamo tanto di cane ma la popolazione felina italiana è decisamente rappresentata per cui dobbiamo sapere anche quanta energia dare amiccio allora anche qui mer sta per far bisogno energetico di mantenimento in questo caso del gatto anche qui ragioniamo sul peso ideale il peso ideale del gatto deve essere elevato allo 0,67 in questo caso e moltiplicato per 75 questo di norma accade per gatti sedentari o sterilizzati cioè che il gatto sia un gatto intero ma che vive in casa o che sia un gatto sterilizzato che fa casa e fuori il coefficiente non cambia sempre 75 che cosa accade però se io ho un gatto magari non sterilizzato che basta tutto il giorno fuori a cacciare topolini uccellini e consuma energia che questo 75 deve diventare un 100 perché è chiaro che l'attività fisica che il gatto compie in quel caso fa sì che bruci di energia e quindi per mantenere il peso debba avanti non so se anche voi avete questa esperienza ma è tipico che l'inverno che i gatti trascorrano circa 18 19 21 ore a dormire sul divano e mangiano x crocchette mantengano il peso poi quando arriva la bella stagione e li portiamo nella casa al mare nella casa in montagna nella casa in campagna oppure se abbiamo un giardino e li lasciamo liberi di scorrezzare loro tendono a dimagrire perché il dispendio energetico derivante di attività fisica aumenta vale pertanto la pena a cambiamenti di stagione se cambia l'attività fisica del nostro beniamino cambiare anche il razionamento quindi quei 50 grammi di crocchette che davamo durante il periodo autunno-invernale possono magari diventare 65 perché è giustificato dal fatto che sta facendo più attività questo ovviamente sempre con l'obiettivo di mantenere il peso ideale stresso questo concetto perché il calcolo si fa sul peso ideale se abbiamo un paziente troppo magro o troppo grasso questi ragionamenti ovviamente sono validi ma in quel caso non essendoci una situazione di normalità diciamo di perfetta salute vi suggerisco di rivolgere dal veterinario per capire esattamente come dobbiamo raggiungere il famoso peso ideale che stiamo citando quindi calcolatrice alla mano se ho un gatto europeo di 3 anni massico castrato di 4 kg di peso che vive in casa qual è il suo fabbisogno energetico impostatemi per piacere il calcolo ok tanto lo faccio anche io perché non so se ve l'ho fatto aspetta che io non posso far vedere ok io l'ho fatto ci siete? non ancora intanto dico agli amici di Instagram di venire a seguirci su Facebook o su YouTube arrivederci a tutti chiudo la diretta perché se no ecco elimina elimina ok ok allora ci siamo? commenti? ah allora 189,86 quindi 190 189 allora oddio ci siamo? commenti? cosa succede? scusate era partita un'altra un'altra roba quindi ok perfetto è giusto perfetto 189 anche c'è 10 bravissimi ok vediamo a vegni vediamo giusto perfetto bravissima per il gatto non c'è molto di più da dire nel senso che non c'è tra un gatto e l'altro questa enorme variabilità di mole somatica quindi le oscillazioni di dispersione energetica sono meno importanti e quindi il fattore razza è meno importante dove consideriamo il fattore razza diventa immagino facile intuirlo laddove ad esempio abbiamo dei gatti senza pelliccia per cui gli sphinx o i demorex dovranno mangiare di più e io sia l'uno che l'altro e vi dico vi ne accorgete perché per terremoregolare quindi mantenere la temperatura corporea consumano più energia e di conseguenza questa energia devono attingerla dall'alimento per tutte le altre razze è vero abbiamo delle razze più predisposte ad ingrassare piuttosto che altre ma tutto sommato grosse differenze non ce ne sono per cui io a meno che non abbia uno sphinx o un devon tendo a non fare delle grosse differenze in base al fattore razza ok? ok perfetto e a questo punto diamo i numeri assoluto ok allora io vi direi dividetevi cioè scegliete ciascuno un caso oppure se siete più davanti a un computer dividetevi in gruppetti qualcuno fa il caso 1 qualcun altro fa il caso 2 e qualcun altro ancora fa il caso 3 ve l'illustro cane labrador femmina sterilizzata 3 anni 28 kg di peso ideale che vive a una temperatura tra i 15 e i 20 gradi che svolge un'attività fisica normale che noi in gergo chiamiamo lieve a basso impatto cioè non fa né eccessivo moto ma non è neanche un cane pitirone qual è il fabbisogno energetico giornaliero per mantenere il peso ideale di 28 kg ecco aspetta che gliel'ho messo un po' ingrandito perché se no si perdono labrador sterilizzata 28 kg temperatura piacevole insomma ok aspettiamo che prendano che facciano tutti i calcoli intanto illustro il secondo caso perché qualcuno magari vorrà non fare il lavoro o non fare il whippet esatto cane whippet maschio intero intero significa che non è castrato non che i cani di prima erano stati divisi a metà e che questo invece è tutto intero maschio intero significa che non è castrato di due anni 7 kg di peso ideale che vive anche lui in un appartamento tra i 18 e i 23 gradi e che compie attività di sprint quanti kg calorie deve mangiare per questo tipo di attività per mantenere il peso col cuore terzo caso cane aschi maschio intero 5 anni 25 kg che vive a temperature che vanno dagli 0 ai meno 20 e compie attività di endurance ad esempio è il cane di un proprietario che ama compiere quelle grandi traversate durante il periodo invernale e magari si iscrive alla grande cosa bianca che c'è in Trentino oppure alla comosissima Editha Road che c'è in Alaska Alessia chiedono la slide della temperatura un secondo se la puoi girare perfetto la temperatura eccola qua eccola Cristina perfetto ok fagli una fotografia magari così io penso sì che sia sufficiente io penso di sì dai anche perché non hanno più grazie perfetto Cristina è stato sufficiente ok tu sei sempre in schermo pieno con la presentazione Alessia così riescono a vederlo meglio vi lasciamo ancora qualche tempo perfetto ancora qualche tempo per nel frattempo vi ricordo ovviamente che potete scaricare la presentazione tutta la presentazione con la mega tabella Excel fighissima che ha fatto Alessia sul sito bluvette slash dirette dove potete iscrivervi e tra poco tra qualche settimana partiranno anche le newsletter per cui altre mirabolanti serate e notizioni fantastiche per voi quindi seguiteci siamo alle soluzioni chi è che vuole fare il caso dell'Adenor dite a me che cosa avete fatto forza fateci fateci sognare visto e considerato che abbiamo degli alunni bravisti oh Marta Francesca Croce è partita è stata la prima caso 3 Mer uguale caso 3 ok ok aspetta che lo tolgo vediamo se è giusto è quasi allora 2,583 al giorno vediamo quali possono essere le discrepanze non è detto che ci sia una soluzione necessariamente giusta e una per forza tutta sbagliata perché dipende da come interpretiamo come vi dicevo questo è uno dei casi tricky quindi un po' che possono ingannare perché all'inizio vi ho detto il cane aschi dovrebbe mangiare di neno in realtà se io ho un cane che si deve fare 50 km al giorno della neve a menuretti difficilmente questo cane ingrasserà per quanto possa essere un aschi per cui io preferisco che inizi la gara e finisca la gara non dico con un chilo in più perché sarà impossibile ma almeno mantenendo il peso ma non voglio assolutamente rischiare che lo dimagresca per cui io di default in queste situazioni ho deciso che il fattore di decremento 08 non lo applico applico però il fattore temperatura e il fattore tra le dette temperamento attività quindi per me uno è il fattore temperatura l'altro il fattore attività quindi 25 elevato a 0,75 per 110 non è castrato quindi non applico nient'altro è attivo quindi applico l'1,3 e vive a meno 20 gradi quindi applico l'1,5 perfetto abbiamo i conti sono 2390 chilocalorie ok abbiamo un 2398 calorie di farfa fiore senza fattore di correzione razza che ha fatto quindi il tuo ragionamento poi abbiamo anche Elena Zuecco che ha 25 elevato a 0,75 per 110 0,8 di razza non è 25 per 1,3 di attività ecco lei ha fatto il ragionamento perfetto cioè ha fatto 3,0 e meno 20 quindi ha applicato lo 0 il fattore dello 0 gradi anziché meno 20 va bene lo stesso perfetto qualcun altro? sì sì abbiamo Viviana Vegni il caso 1 quindi il nostro labrado esatto ok eccolo qua e abbiamo il ragionamento lei ha fatto 1 il caso 1 scusami 28 elevato allo 0,75 per 0,8 per sterilizzazione quindi 0,8 per razza ecco perfetto 8,5,6 perfetto abbiamo ancora Renata dice bocciatevi così d'amble senza neanche aver dato la risposta povera poi abbiamo primo caso Clay Sky Dog primo caso 28 elevato a 0,65 per 110 0,8 0,8 uguale 857 bravissimo perfetto anche lui perfetto Marta Francesca Fiore Croce dice io ho usato 1,4 per il temperamento invece di 1,3 lei aveva fatto è il primo caso Marta Francesca Croce caso 3 scusami il primo te l'avevamo messo 3 esatto ok quindi l'importante è che quel cane non dimagrisca parlo dell'asco intetto per cui se li diamo un surplus di energia poco male l'importante è che noi gliene diamo troppo poca certo in quelle situazioni giustamente perfetto molto bene queste calorie quindi la quantità di grasse la quantità di proteine lì andiamo sull'alimentazione dei cani sportivi potremmo poi farci una lezione a chi è interessato a queste cose perché magari fa attività di ricerca piuttosto che fa giriti o fa ha dei cani che vanno a caccia magari possiamo poi fare una lezioncina specifica su queste cose però l'importante è che questi cani vengono alimentati in maniera adeguata e lui petta nessuno è piaciuto? no non l'ha fatto nessuno il povero unico ti doverà burvangiare quindi lo faccio io allora 7 kg di peso ideale elevato a 0,75 per 110 per fattore razza fattore temperamento perfetto ok fantastico abbiamo avuto abbiamo avuto tanti che sono riusciti assolutamente a fare tutto molto bene andiamo avanti ora memorizzate il labrador perché ho voluto approfondire il nostro amico labrador per rispondere alla nostra questione ma come mai tutti questi labrador sono in sovrappeso non tutti ma una gran parte ha memorizzato 856 kg calorie che l'energia giornaliera che un labrador di 28 kg femmina sterilizzata deve assumere per mantenere il suo peso ideale allora supponiamo che il nostro cane labrador mangi delle crocchette ma quante crocchette gli devo dare al giorno per dargli 856 kg calorie bene ovviamente devo sapere quanta energia c'è nell'elemento commerciale che io sto dando ma l'energia sugli elementi commerciali non è quasi mai dichiarata perché perché non rappresenta uno di quei fattori di quelle informazioni obbligatorie che secondo la legge 767 del 2009 che regola l'immissione e la commercializzazione del pet food sono obbligati a darvi ma possiamo calcolarcela l'energia se partiamo da quelli che sono i componenti analitici o l'analisi chimico centesimale si chiama analisi chimico centesimale perché i grossi nutrienti quindi i macronutrienti messi insieme devono fare 100 quali sono i grossi nutrienti che noi dobbiamo considerare dobbiamo considerare quelli che apportano energia per cui ad apportare energia che cosa sono le proteine i grassi e i carboidrati che in gergo si chiamano estrattivi inazotati leggiamo insieme l'etichetta questo è quello che obbligatoriamente voi avete questa è un'etichetta vera e ho fatto la fotografia di un alimento attualmente in commercio allora questo alimento ha su 100 grammi o su un chilo perché 27% significa dire o 27 grammi su 100 grammi o 270 su 1000 quindi 270 su 1000 questo alimento ha 27% di proteine che apportano energia tenore in materia grassa sono i grassi o i lipidi quindi un 16% di lipidi poi abbiamo un 2,5% di fibra che però come energia apportano poco lo sapete bene perché se vi mettete a dieta il dietologo vi riempie di insalata e di verdura e invece dovete dire ciao ciao al burro e alla pizza o alle costine con 2 cm di grasso in superficie e tutto attorno quindi le fibre ci interessano relativamente la materia inorganica sono i sali minerali o anche chiamate ceneri in gergo gli omega 3 e gli omega 6 sono già conteggiati nei grassi calcio, fosforo, sodio potassio, magnesio sono già conteggiati nella materia organica semplicemente vengono dettagliati quindi come faccio da queste da queste informazioni a ricavare l'energia semplice applico la cosiddetta regola del 494 o formula di hot water modificata come vi ho detto le proteine e i grassi e i carboidrati apportano energia e io so che un grammo di grassi mi apporta 9 kg calorie un grammo di proteine me ne apporta 4 un grammo di carboidrati me ne apporta 4 perché se io moltiplico la quantità di proteine dichiarata per 4 e la sommo alla quantità di grassi dichiarata per 9 e la sommo alla quantità di carboidrati non dichiarata perché non è dichiarata ma adesso capiamo come ricavarla per 4 e sommo queste 3 energie ottengo in grosso modo la quantità di energia apportata da 100 grammi del mio alimento ditemi se è chiaro se non lo rispiego allora a me è chiarissimo aspettiamo un secondo per dare tempo a tutti di rispondere se appunto o mettete dei mettete dei mi piace insomma fateci capire se state seguendoci perché siete ancora in tanti siete partiti nonostante tutto nonostante tutto nonostante sono già quasi le 10 meno un quarto l'abbiocco non è ancora arrivato e quindi al di là dell'ora è un webinar molto tecnico ma credo che sia molto pratico e molto utile molto interessante assolutamente meraviglioso lo sto trovando interessantissimo ci sono altri commenti ok chiaro chiaro ok stanno tutti dicendo che va benissimo perfetto allora torniamo alla nostra etichetta ho detto proteine per 4 quindi in questo caso le proteine sono 27 quindi 27 per 4 quanto fa 27 per 4? così a naso non devo sapere 714.28 8 riporti 2 4 8 1 0 8 7 per 4 e mi darebbe un 108 108 ok vale anche 108 vale anche per un umido commerciale questo calcolo qua ovviamente la densità energetica di un umido commerciale sarà inferiore perché c'è tanta acqua ma questo calcolo tiene conto della quantità di acqua contenuta nell'alimento e vi vi faccio vedere perché poi ne tiene in considerazione ok però sì ok perfetto se vedete in un'etichetta di umido la quantità di proteine dichiarate sarà magari un 8% perché questi valori sono debiti sul calcoale cioè sull'alimento in cui c'è l'acqua un secco ha circa l'8-10% di acqua quindi è meno idratato e di conseguenza è più concentrato un umido ha circa l'80% di acqua quindi è tutto più diluito per cui mentre un umido ha circa 100 calorie su 100 grammi un elemento commerciale secco ha in media 380 calorie su 100 grammi certo è molto più concentrato allora Elena 2 che ho già fatto il totale tu lo sai 2,62 2,62 ma volevo chiedere a come si erano ricavati i carboidrati vediamo ok perché secondo me mancano i carboidrati allora proteina per 4 27 per 4 grassi per 9 16 per 9 a questo punto vi dicevo devo prendermi i carboidrati ma se leggete i carboidrati non sono dichiarati perché ho le fibre ho le ceneri non ho l'acqua perché anche qui se il tenore è inferiore al 15% di legge non sei obbligato a dichiararlo per cui noi di default diciamo che l'alimento ha un 8% ma i carboidrati non c'è traccia e non posso stimare quanti ce ne siano ma posso calcolarlo e come li calcolo? semplicemente per una sottrazione se so che questa si chiama analisi chimico centesimale signice che la somma dei grossi nutrienti deve fare 100 per cui se io faccio 100 meno proteine grassi fibre ceneri e acqua necessariamente quello che mi rimane con qualche piccola sbavatura sono i carboidrati o estrattini azotati 27 più 16 più 2,5 più 7,8 più 8 che è l'umidità che io ho stimato perché è un secco mi viene 100 meno 61,3 se non ho sbagliato il calcolo gli estrattini azotati sono 38,7 ok quindi a questo punto abbiamo 27% di proteine 16% di grassi 38,7 di carboidrati i primi due li avevo già moltiplicati per i loro coefficienti moltiplico i carboidrati per 4 sommo tutto e ottengo 4060 chilocalorie che corrisponde a 406 chilocalorie su 100 grammi certo ok ok tutto chiaro fin qua chiarissimo sì assolutamente sì 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 fortunatamente però questa etichetta ci dava l'energia metabolizzabile che è 386 chilocalorie su 100 grammi come vedete la formula di attuoto è modificata sovrastimo un po' l'energia ma in realtà sono 200 calorie su chilo che è veramente poco cioè 20 calorie su 100 grammi ok poca roba per cui considerate questo metodo assolutamente affidabile ok abbiamo detto ritorniamo al nostro labador di prima quante calorie doveva mangiare il nostro labador di prima per mantenere i suoi 28 kg di peso vediamo se qualcuno ha fatto i compiti diamo il tempo bellissimo questa questa diretta torniamo al labador 856 ve lo dico io 856 a questo punto qual era la domanda iniziale di questo brainstorming però che c'era arrivato eh guarda l'hai dato l'hai dato ha dato la risposta prima che tu tessi che tu tessi la domanda attento un premio un premio allora qual era la domanda che ci siamo posti all'origine è il mio labador che deve assumere 856 calorie al giorno di queste crocchette così strutturate che apportano 386 calorie su 100 grammi quanti grammi ne devo dare e qui dobbiamo fare una proporzione cioè se 386 calorie stanno in 100 grammi di questo alimento quanti grammi devo dare affinché apporti 856 calorie 386 sta a 100 come 856 sta a x quindi x è il 4 di grammi della crocchetta poi chi di voi non si ricorda come si risolvono queste proporzioni moltiplichiamo i centrali moltiplichiamo gli estremi esatto quindi sarebbe 386 x uguale a 100 per 856 per trovare la x divido per il numero che c'era dall'altra parte quindi 856 per 100 diviso 386 x uguale a 121 grammi al giorno perfetto assolutamente sì 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 chiaro chiaro assolutamente chiaro qui ci si inizia ad arrivare a conte perché tutto chiaro fin qua poi le proporzioni è una roba forse da bosco la media media penso sì però erano belle le proporzioni io amo la matematica come potete vedere per cui per me è un giochetto divertente mi rendo conto che per molti che magari fanno un lavoro in cui la matematica la vedono solo così di passaggio possa non essere così immediato però spero di avervi condotto con il ragionamento assolutamente il perché nella proporzione molto interessante ok allora questo cane per mantenere 28 kg di peso e di conseguenza assumere 856 calorie al giorno deve mangiare 221 grammi al giorno di queste crocchette esatto molto bene se però noi non seguiamo le dirette blu-net e non facciamo il calcolo personalizzato delle chilocalorie e facciamo riferimento solo a quello che c'è scritto sul retro della confezione guardate un po' che cosa succede succede che per un cane che dovrebbe stare tra i 26 e i 44 kg e già qui c'è una forbice molto ampia la quantità suggerita dall'azienda è di 285 fino a 420 grammi al giorno di crocchette ora un proprietario così accorto dice ma il mio cane è intorno ai 30 kg più o meno 30 sta a metà tra 26 e 44 per cui gli darò 310 320 350 grammi un proprietario che non si pone il problema ma daretta lo stomaco del cane magari la prima volta gliene dà 350 vede che il labrador ha ancora fame perché i labrador hanno sempre fame allora aumenta e dice vabbè io posso aumentare fino a 420 quindi te le do 420 ma se voi seguite la diretta bluvetta e fate il calcolo per il vostro cane labrador sterilizzato sapete che gliene dovete dare 221 di grammi al giorno esattamente e capite che se lo alimentate a 420 grammi come ci è scritto sulla confezione è chiaro che nel giro di breve il vostro labrador sarà in suo peso e poi è colpa della sterilizzazione no è anche colpa della sterilizzazione che queste tabelle qui non tengono in considerazione le variabili fisiologiche cui noi andiamo incontro perché non c'è scritto che questo alimento va bene solo per i labrador femmina sterilizzati ma questo alimento va bene per qualunque cane di Italia da mini a large non è vero da medium a large scusate e dal medium a large abbiamo il labrador abbiamo il legal abbiamo il setter abbiamo il meticcio abbiamo cani che per temperamento razza stile di vita hanno dei fabbisogni energetici molto diversi verissimo hanno fatto due commenti tutte e due molto pertinenti il problema è che spesso si basano sul peso del cane che magari è già in sovrappeso o peggio ancora Stefano giustamente dice magari manco peso ne vanno ad occhio quindi assolutamente esattamente più frequente ancora assolutamente questa diretta da riguardare le tabelle sono assolutamente fuorvianti è vero e le tabelle dei cibi assolutamente verissimo sì 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 molto bello quest'ultima slide solo per dirvi che questa è la base di partenza per la formulazione e il razionamento anche delle diete casalette ovviamente il quadro qui si complica perché oltre alle calorie dobbiamo conteggiare tutti i micro e i macronutrienti gioco forse per una dieta casalinga non solo ci vuole la calcolatrice ma ci vuole un software per cui anche in questo caso vi suggerisco di non fare il file di te ma di affidarvi a un professionista che possa supportarvi nella formulazione vi faccio ancora vedere una cosa come vi ho detto vi darò alcuni file questo è il file Excel pronto per calcolare in un botto solo i carboidrati e le calorie dell'alimento per cui voi inserite l'acqua la vediamo stiamo vedendo ancora la tua presentazione e perché devi condividere un altro foglio se stavini nel frattempo voi commentate con BlueVet hashtag BlueVet che arriva la sorpresa eccola qua sì ecco aspetta che l'hai ingrandito è un calcolo automatico inserite automaticamente l'acqua e se non è dichiarata ed è un secco inserite l'8% nell'umido è necessariamente dichiarata perché giocoporza è superiore al 15% la quantità di proteine la quantità di grassi la quantità di fibre e di ceneri automaticamente il foglio dà la percentuale di carboidrati e vi dà le chilocalorie dai 3 macronutrienti e la somma totale ecco quindi ha fatto tutto visto che le piace la matematica ha fatto tutto in automatico questa tabella insieme alla presentazione di oggi come sempre sul sito BlueVet slash dirette lo potete scaricare già da adesso quando chiudiamo la diretta potete andare a scaricare tutto quello che volete ovviamente c'è anche l'attestato di partecipazione come al solito ok Alessia tu sei stata una meraviglia è stata veramente una meraviglia io adesso approfitterei per dare ancora qualche minuto di tempo a chi non ha commentato con hashtag BlueVet per continuare a poter partecipare perché se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto può partecipare dopodiché abbiamo se ci sono delle ulteriori domande te le poniamo e ecco allora così almeno poi alla fine io farei vedere il rullo dei tamburi e chi ha vinto la sorpresa allora calcolo Marta Francesca Croce calcolo l'altezza cane da adulto in base a sé calcolo l'altezza del cane da adulto in base al sesso no lo calcolo in base più che altezza probabilmente sarà il peso da adulto lo calcolo in base alla razza se sei un cane di razza tendenzialmente se sei un cane di razza e sei un maschio il tuo peso da adulto sarà molto simile a quello di tuo papà se sei un cane di razza e sei una femmina sarà molto simile a quello di tua mamma per cui se io ho un labraduri maschio che pesa a tot mesi 12 kg e il cui papà pesa 36 kg io posso prevedere che lui arriverà a quel peso semplificando in maniera estrema ma scusami ha integrato la domanda chiedeva se si poteva ripetere come hai fatto il calcolo del peso da adulto ok allora in realtà in questo momento il calcolo non ve l'ho fatto l'ho stimato sulla base dei genitori visto che ciò che diventerai da adulto dipende in parte dalla genetica per semplificarvi la vita vi ho detto fate finta che se tu hai un cane un labrador maschio e il suo papà pesa 38 kg probabilmente lui arriverà a 38 kg non è proprio così nel senso che anche qui esistono delle equazioni molto molto più complesse che ci permettono di calcolare la curva di accrescimento e definire se il mio accrescimento è in linea secondo le curve attese o in quale percentile della curva si colloca visto che è facile fare danno non vi do queste formule non perché sono molto complesse sono proprio degli algoritmi veri e propri che fanno una stima settimana dopo settimana sulla base di una serie di pesi già registrati per cui se io il peso registrato è una data riesco a stimare quante calorie quel cane deve assumere in quel momento e proiettare tramite dei modelli matematici quanto quel cane peserà da adulto sono formule molto complesse non ve le faccio vedere in linea generale quello che facciamo è se tu sei un labrador maschio e tuo papà pesava 36 kg è verosimile che tu possa arrivare a 36 kg quindi partiamo da quello e quindi peso del puzzle in quel momento diviso 36 kg ok perfetto perfetto allora ovviamente è un professionista sì esatto la cosa e qui io ribadisco la cosa perché qua ovviamente si fa richiesta di fare un incontro sulla dieta casalinga faremo sicuramente un incontro sulla dieta casalinga magari qualche cosa di più approfondito lo farà la dottoressa proprio in sede presso l'ospedale veterinario a nubi quando si potranno fare degli incontri proprio con tutti con la possibilità che tutti possano partecipare per qualche cosa in differita quindi in diretta facebook faremo qualche cosa ma il consiglio è quello assolutamente di rivolgersi a un professionista per la dieta casalinga perché è veramente pericoloso fare una dieta senza un calcolo corretto e personalizzato questo assolutamente intanto che voi che voi andate a continuare a commentare con hashtag bluvet io vado a prendere lo strumento lo condivido e faccio vedere che andiamo a si vede eh sì ok perfetto che si sta vedendo chi ha commentato con bluvet se c'è un commento anche di bluvet mi ero spaventata se vince bluvet dobbiamo ritarlo evelina polin ha vinto la sua sorpresa quindi evelina ma adesso vogliamo sapere cos'è la sorpresa o non è di una sorpresa non si può ancora sapere perché noi al momento non si può ancora sapere so che sono più sorprese ma è bellissima una la sola non vi posso spoilerare assolutamente nulla anche perché ci dovranno essere ovviamente delle foto che ci manderete evelina per poter avere questa sorpresa dovresti cortesemente mandare un messaggio privato sulla pagina di bluvet con il tuo nome e cognome il telefono e l'indirizzo perché così ti possiamo spedire le sorprese perché vi spoilerò che sono le sorprese non è una sorpresa sono più sorprese quindi oddio grazie adesso nel frattempo andiamo avanti con le domande allora evelina appunto ad un cane che fa attività sportiva una volta a settimana ad esempio agiti ti serve aumentare le calorie l'abbiamo detto prima quindi devi riguardarti riguardarti la direzione allora se una volta sola alla settimana visto e considerato che spesso si lavora con dei premi e delle recompense di cibo io non aumento le calorie perché non è trasliamo il discorso alla medicina o alla nutrizione umana ma funzioniamo come loro e loro funzionano come noi non è che se noi andiamo in palestra o a farci una corsetta una volta alla settimana dimagriamo perché l'organismo è abituato a delle situazioni energetiche che cerca di annullare per cui se facciamo agire una volta alla settimana non cambio il rapporto calorico ho maggior ragione perché durante quella sessione è vero che consigliamo a mangiare dei cuori se invece un cane che oltre alla sessione di agility chiamiamola gara chiamiamola prova fa degli allenamenti allora a quel punto si calcola quello che è il dispendio energetico derivante di attività fisica e anziché darlo nei giorni in cui fai attività lo si spalma su tutta la settimana ok? Perfetto ok questa è la periodizzazione dell'alimentazione che corrisponde anche alla periodizzazione dell'allenamento perfetto Renata chiede un calcolo lei fa l'alimentazione casalinga Renata tutt'al più magari ti passo il contatto di Alessia la cosa migliore sarebbe quella di farti seguire un attimo prendere una consulenza tanto Alessia segue anche online così almeno Renata tra l'altro è una nostra collaboratrice insomma è proprio una cara amica quindi ti daremo sicuramente la possibilità di avere così almeno ok Evelina sì ti sei collegata tardi nessun problema però effettivamente questa risposta questa considerazione non l'aveva fatta prima per cui puoi andare a riguardarti tutta la diretta tenendo in considerazione questa considerazione ragazzi sono le 22.06 ma tu sei stata millimetrica addirittura allora ma se un cane invece che non è in sovrappeso anzi essendo un alano sembra magro perché un alano grasso è raro ma il veterinario dice che sta crescendo bene come si capisce se è fame o è gola qua ci sono gli altri allora diciamo che sembra magro può anche essere normale per un alano perché un alano fisiologicamente ha una quantità di grasso corporeo sotto cutane inferiore rispetto a un labrador se però il cane si sta crescendo bene calcolando le famose curve di accrescimento non mi sta nel percentile giusto allora io preferisco che arrivi a fine accrescimento leggermente più magro perché questo non va a gravare sulle cartilagini di accrescimento e quindi non crea dei microtraumi da eccesso di peso e poi al massimo faccio la insomma riditura della condizione corporea nel momento in cui lui è diventato adulto ma tendenzialmente se il cane sta bene se sta crescendo bene bec' Grazie a tutti.